Mai più nessuno al mondo t'amerà così per te. Nessuno al mondo soffrirà così, nessuno mai, mai saprà cosa stai facendo. Ma forse il tuo cuore sa che io vivo per te. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Se tu ti stai perdendo, ti enti stretto. Se tu ti stai perdendo, ti enti stretto. Nessuno al mondo t'amerà così. Questa sfida tra Camilla, cugina di Stefano Bertarini, e Fabiana, amica di Oara Borselli, è vinta da... Camilla Costanti, la comandata da Stefano Bertarini, pareggio! Il pareggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!